amici di pincas siamo qua con un nuovo video oggi parliamo di notizie infatti ci troviamo nella serie di video pincas notizie quindi ragazzi vi chiedo solo di lasciare un like un commento e naturalmente iscrivetevi canale se non l'avete ancora fatto buona visione sono punti che permettono a un artista che venga riconosciuto il lavoro fatto con un'altra persona ad esempio doppiare un personaggio mettendo a disposizione la propria voce la propria esperienza con la disponibilità per collaborare con una produzione i titoli di coda in inglese credits sono la parte finale di film programmi televisivi o videogiochi durante la quale vengono riportati i nomi delle persone implicate ho deciso di fare in collaborazione al doppiatore che in questo momento sta leggendo il copione per dare importanza alle persone che collaborano con noi non sottovalutando il lavoro che svolge qualsiasi esso sia quindi è importante riconoscere come i titoli di coda la persona che dà modo al produttore di essere riconosciuto per il suo lavoro svolto menzionando come dà accordi il suo nome eventuali canali siti in modo da non prendersi tutti i meriti e condividere con i collaboratori come per la liberatoria ci dà la possibilità all'artista di essere riconosciuto per il lavoro svolto ricevendo oneri per una riuscita collaborazione innanzitutto vorrei ringraziare il mio doppiatore che mi ha prestato la sua voce e ha letto il mio copione io a volte mi servo di altre persone che fanno delle piccole collaborazioni con me perché a volte non riesco a fare tutto quello che vorrei fare quindi mi servo di altre persone e quindi è giusto ricordare nominare loro nei miei video quando una persona collabora con me è giusto che venga menzionato il suo nome i suoi canali youtube i suoi social eccetera quello che desidera come d'accordi che 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 vuole che si sappia detto questo ragazzi vi ricordo di lasciare un like un commento e scrivere il canale ma adesso chiudete gli occhi immaginate una scena voi avete appena fatto un bellissimo lavoro il vostro progetto è un progetto che siete veramente orgogliosi avete speso tempo denaro passione tanta voglia di fare qualcosa di nuovo e innovativo lo condividete con gli amici lo fate vedere a chiunque conoscete che avete fatto un bel lavoro lo lo fate vedere a qualsiasi persona possa capire cosa state provando in questo momento siete contenti siete al settimo cielo siete al top ma sfogliando i social alcuni social trovate che il vostro lavoro non è più vostro ma i meriti li sta prendendo un'altra persona come vi sentite ragazzi nel leggere che tutti i commenti sono rivolti a un'altra persona non al proprietario del progetto sicuramente vi sentirete molto male delusi abbattuti e volete fare qualcosa per riprendervi quello che è vostro ce l'avete fatta non lo so però l'unica cosa che dovete fare ragazzi è dare importanza alle persone che collaborano con voi se prendete una foto da un altro un video una voce un qualsiasi cosa che un altro collabora con voi che un altro vi presta menzionatelo menzionatelo nel vostro social nel vostro canale youtube fate capire che il lavoro non è vostro ma è anche grazie a un'altra persona perché i meriti non sono vostri vanno tutte alle persone che hanno fatto quel video che hanno fatto quel disegno che hanno fatto quella fotografia che vi hanno prestato la voce voi avete fatto una buona parte del lavoro montando facendo il video e pubblicandolo su i vostri social ma lui ha fatto tutto il resto il lavoro più grande quindi è giusto dare importanza alle persone che hanno collaborato con noi i famosi crediti crediti del mio doppiatore che parlava e vi dava una piccola spiegazione nel video quindi ragazzi ditemi sotto nei commenti come ci rimanete cosa provate e cosa avete provato nel vedere che il vostro lavoro sia stato preso da un'altra persona lasciate un like un commento e iscrivetevi al canale buona visione